Si raccusa via Crispi, Corso Umberto e via Lermocrate interrotte, raggiungibile la stazione ferroviaria, in efficienza amministrativa. Via Crispi chiusa da mesi con i lavori finanziati nella scorsa legislatura che procedono con lentezza biblica, oltre ai limiti previsti dall'appalto. Corso Umberto, lato stazione chiusa anch'esso a causa dei lavori su via Crispi e via Lermocrate, lato Paolo Orsi chiuso per lavori in corso. Disperati i commercianti e gli artigiani che vivono in queste tre arterie o vi hanno delle attività. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Sebastiano Moncato e Vincenzo Salerno. Da dove raggiungere la stazione ferroviaria? Se lo chiedono i siracusani, insieme ai turisti e a chi ha la sfortuna di venire nella nostra città per prendere il treno. La segnaletica, un optional, con macchine e mezzi pesanti che si incrociano in Corso Umberto per poi tornare indietro. I vigli urbani, sicuramente impegnati in altri compiti istituzionali, non vengono inviati su dette arterie per aiutare i disperati automobilisti che hanno avuto la disgrazia e la sfortuna di imboccare Corso Umberto verso la stazione ferroviaria. Il caos più totale si è materializzato, avrebbe detto il buon Pirandello. Altri potrebbero invece parlare di schizofrenia paranoide politica, come segno evidente della incapacità di affrontare e risolvere i problemi della città. Eppure i nostri amministratori comunali vengono pagati profumatamente ogni mese dai cittadini eseracusani per svolgere le loro funzioni politiche e amministrative. Di fronte a questo totale fallimento quotidiano, a quando le vostre dimissioni? Per carità hanno concluso Vinciullo, Moncato e Salerno. Andate a casa e liberate la città dalla vostra presenza funesta.